Ciao a tutti, sono Lauridis, mi trovate su YouTube come Lauridis e ho cominciato a giocare quando ero piccolissimo, grazie al Super Mario Bros. Però ho cominciato a interessarmi nel mondo competitivo del gaming grazie al Rocket League. Su YouTube e su Twitch cerco il tempo di aiutare le altre persone a migliorare su questo gioco, ovvero il gioco competitivo per eccellenza secondo me al momento. Penso di aver aiutato molti giocatori competitivi grazie ai miei tutorial e ai miei educativi e sono contento di quello che sono riuscito a fare nel mondo di YouTube. Su Twitch faccio lo stesso, faccio un po' più di intrattenimento, però comunque cerco sempre di dare qualche consiglio e cercare di far migliorare le persone che mi seguono. Ho cominciato a giocare al Rocket League per puro caso, l'ho visto nella libreria di Steam, ho provato a giocarlo, mi ha divertito tantissimo e degli ho cominciato a giocare in maniera molto divertente con i miei amici e fin là è rimasto un gioco semplicemente divertente. Dopo qualche mese ho visto come poteva diventare e quel che è diventato dal punto di vista competitivo, questo mi ha spinto a giocarlo fino ad oggi. Al momento sul Rocket League non ho nessuna macchina preferita, però sto usando la Dominus. Per chi inizia a giocare al Rocket League, consideri di usare sia Octane, sia Dominus, sia Bat-to-B, provarle tutte e tre per vedere con quale si trova meglio e soprattutto concentrarsi su sia all'evento meccanico che all'evento di rotazione. Penso di aver già raggiunto i miei obiettivi sul mondo di Rocket League perché volevo semplicemente aprire un canale per aiutare gli altri ed è quello che ho fatto e sono contento del mio risultato. Ho scelto Exceed perché penso che sia il team più adatto per far crescere il Rocket League in Italia. La mia avventura su YouTube è iniziata perché non c'era nessun altro canale che aiutava gli altri, soprattutto in Italia, e per questo ho deciso di aprirlo appunto per aiutare l'italiano a migliorare in questo gioco. Per me è tutto, mi puoi trovare su YouTube e su Twitch con il nome di Lauridis. Ciao ciao! Grazie a tutti!